Oggi parleremo di OGM e d'intorni. Questo è un argomento ormai datato perché sono almeno più di 30 anni che abbiamo sentito parlare per la prima volta del del mais bt 176 quindi insomma gli anni ne stanno passando molti però nonostante tutti questi anni l'argomento diciamo OGM o meglio organismi geneticamente modificati per l'alimentazione umana e animale quindi parliamo di di specie botaniche insomma ha sempre creato degli scontri spesso ideologici favorevoli e contrari e quindi l'obiettivo anche la velletà di questa di questo pomeriggio è quella di cercare di capire questo e abbiamo un po scorso in quelli che sono i cosiddetti personaggi di chiara fama e abbiamo diciamo individuato Luigi Cattivelli. Luigi Cattivelli è il direttore del centro ricerche per la genomica la bioinformatica del CREA la sede è a Fiorenzuola d'Adda è uno specialista appunto di di genetica classificabile appunto nei di chiara fama. Ma perché oggi andiamo a riprendere questo vecchio argomento ma mai che non ha mai messo d'accordo sostanzialmente almeno tutti noi europei ma i motivi diciamo sono stati lo stimolo è venuto da questa diciamo congiuntura negativa che si è creata tra pandemia, guerra in Ucraina, siccità e speculazione finanziaria per cui c'è questa forte tensione dell'approvvigionamento delle commodity agricole ma non solo anche l'energia per cui i governi del almeno occidentali si sono posti il problema che forse una globalizzazione selvaggia merita una riflessione non che sia un aspetto negativo però che stimoli un po' a verificare se l'aumento dell'autosufficienza nella produzione almeno degli alimenti possa in qualche modo mettere un po' in sicurezza l'occidente perché noi importiamo molte delle materie prime che ci servono che so il grano, il mais e la soia spesso da paesi dove non ci sono delle democrazie reali, sono a volte delle democrazie più teoriche per cui è rivenuto fuori questa riflessione cioè noi dobbiamo si auspica di aumentare l'autosufficienza quindi l'auto approvvigionamento di questi alimenti e taluni dicono che l'OGM oppure le nuove tecniche poi ce le spiegherà Cattivelli eventualmente di modifica del DNA al fine di migliorare la produttività ci possono venire in aiuto. Io mi ricordo subito dopo l'uscita di questo mais Bt insomma che era abbastanza tra virgolette convincente no? Era un mais che resisteva la virale quindi alla fine della fiera era convincente. A un certo punto Luigi che ti ringrazio ovviamente di questa tua grande disponibilità nel 95 uscì questo famigerato soia Roundup Redi, RR, che all'inizio ci sconvolsero cosa significa RR e che è praticamente una soia che resisteva a Roundup quindi a un diserbante, il grifosate. Quindi questa probabilmente anche disattenzione comunicativa da parte di Monsanto con questo soia RR un po' ha annescato ulteriormente le polemiche. Ti volevo chiedere Luigi, ci fai capire un po' questa storia degli OGM? Perché poi ci sono problemi sia di tipo diciamo tecnico, possono andare ad alterare gli equilibri nell'ecosistema, possono danneggiare la salute umana e animale, possono... ma poi ci sono anche degli aspetti etici, cioè noi consegniamo a delle multinazionali praticamente le sementi e questi diciamo dubbi alimentano questa questa discussione. Luigi, ti abbiamo affidato un compito molto in grado stasera, non me ne volete. Non sopprenda dove iniziare, ma ti posso anche accennare al fatto che in realtà abbiamo consegnato i semi a multinazionali anche senza gli OGM. Ok. Questo perché in moltissimi altri campi il mais che si sembra in Italia è 100% genetica estera e non usiamo OGM. Questo perché la scelta del paese negli ultimi trent'anni è stata quella, forse inconsapevolmente, ma di fatto è stata quella di non supportare una risorsa genetica nazionale e conseguentemente di consentire a chi investiva di più nel settore di quindi si dargli effetti di mercato. Questo è vero per tantissimi prodotti del mercato agricolo, ma persino per darti un diritto, la varietà di frumento duro più venduta in Italia è francese. Ecco. E questo per dare l'idea di come il paese sia dipendente dal punto di vista della genetica dagli investimenti che hanno fatto altri paesi. Ma ci sono tanti esempi come questo, non è solo uno dei tanti. Ma vediamo come affrontare un pochettino la questione che tu poni. Io vorrei prendermi un quarto d'ora per raccontarti un po' il quadro complessivo in cui ci muoviamo. Non è solamente una questione di OGM sì, OGM no. Il problema è capire che cosa vogliamo coltivare e soprattutto se noi pensiamo che l'Italia debba essere in quanto modo autosufficiente, comunque intende a diminuire la dipendenza all'estero dei prodotti agricoli, significa che deve produrre di più. Produrre di più significa o aumentare la superficie agricola coltivata e questo, entro certi limiti, oltre certi limiti non è possibile, ma soprattutto significa usare piante più produttive. Queste sono le piante moderne. In quasi tutte le specie le piante moderne producono il doppio rispetto alle piante di 40-50 anni fa. Quindi vediamo di capire come abbiamo fatto a selezionare queste piante moderne e come queste piante moderne sono quelle che danno da mangiare alla società di oggi, a tutti, anche a quelle che magari sono contrarie. Allora, ho preparato questa presentazione dove vorrei indicarmi un aspetto. Come fare a selezionare le varietà in base alle conoscenze del DNA? Lo selezionare le varietà perché, come dicevo, solamente varietà nuove consentono di produrre di più. E faccio un piccolo inciso. Se uno pensa che i cambiamenti climatici siano veri e siano così veri che cambia il clima oggi da noi, allora non può pensare di usare le varietà antiche per coltivare domani. Una varietà antica, per definizione, è adattata al clima del passato. E se domani è più caldo di oggi e oggi è più caldo di ieri, non c'è base logica a pensare che una varietà di ieri, adattata ai climi freddi, sia perfetta domani quando sarà molto più caldo. Questo per essere chiari. Per questo bisogna fare nuove varietà. Questo è un obbligo. Se il paese sopravviverà, la cultura italiana sopravviverà, sarà perché dovrebbe essere minutato, perché qualcuno selezionare nuove varietà. E come si fa a fare questo? Si fa su base delle conoscenze del DNA. Perché una varietà è un seme, è un pacchetto di geni. E questo vuol dire che le piante moderne sono tutte selezionate su base di queste conoscenze. Vediamo qual è la logica che si segue. Immaginiamo, ad esempio, di voler aggiungere un nuovo carattere, a una varietà esistente o una varietà in generale. Immaginiamo di voler creare, ad esempio, una varietà resistente a una certa patologia, a una certa condizione climatica. Quali sono le strade logiche che abbiamo davanti? Beh, la soluzione possono essere di due tipologie. Possiamo avere il caso in cui il carattere di interesse esiste già nel germoplasma della specie, per cui ad esempio abbiamo una forma selvatica o una forma antica della nostra specie coltivata che contiene già il carattere. Quindi uno fa semplicemente un incrocio e trasferisce il carattere nelle malattie moderne. Questo si fa con questa tecnologia di incrocio e di conoscenze con il marcatore molecolare, che poi vi spiego un attimo com'è, però è un caso semplice. Tipicamente molte resistenze genetiche alle malattie si trovano nelle forme selvatiche della stessa specie. Oppure abbiamo anche altre situazioni di caratteri che non esistono nel germoplasma coltivato. Uno, immaginiamo, dovrebbe ad esempio fare una pianta resistente a un herbicida, oppure un mais resistente agli insetti. Nelle forme selvatiche di mais non esistono mais resistenti alla virale, per cui in questo caso il carattere non esiste e possiamo darlo a cercare, costruirlo. Abbiamo due strade per costruirlo. O cerchiamo in un'altra specie e riportiamo nella nostra specie di fermento, e questo è il concetto dell'OGM, oppure non esiste nemmeno in un'altra specie e dobbiamo andarlo a costruire all'interno della specie di interesse. E questo si può fare, è stato fatto, con due tecnologie fondamentali. Una è indurre mutazioni, quindi creare un nuovo carattere usando una mutazione che è lo strumento che usa la natura per creare caratteri. E l'altra opzione è quella di fare quello che si chiama genomedi, che di fatto è un sistema di mutazione guidato dall'uomo. E anche in questo caso uno crea una nuova sequenza che potrebbe essere un nuovo carattere. Quello che vorrei fare oggi è raccontarvi questi quattro approcci possibili, dandovi qualche esempio di quello che succede. Parliamo ad esempio di incrocio. In strategia numero uno abbiamo un carattere, vogliamo fare una pianta resistente, cioè un frumento resistente alla ruggine, cerchiamo una varietà di frumento antica oppure una varietà servatica di frumento che porta il gene resistenza alla ruggine, incrociamo e lo portiamo all'interno della varietà moderna. Questo segue né più né meno che le leggi di Mendel. Però il grande vantaggio che facciamo oggi è di usare queste stesse, applicare queste stesse leggi di Mendel, questa strategia, usando dei marcatori che ci consentono di tracciare il gene che si muove da una specie all'altra. Vi faccio vedere un cartone animato che racconta esattamente la strategia globale e poi vi porto un esempio concreto. Il cartone animato è questo. Prima delle conoscenze del DNA la strategia per fare il miglioramento genetico era questa. Lo vuoi condividere Luigi? Il cartone animato non lo vedete? No, non lo vediamo. Non abbiamo visto anche se avete le slide. Hai ragione, scusate, ma questo non lo dobbiamo rifare. Mamma mia. Sei stato molto chiaro ma anche senza slide. Allora, avete ragione voi, questo ve lo sono dimenticato, questo è già un gustissimo gap. Allora, questo qua è il cartone animato che dicevo prima. In questo cartone animato, quello che abbiamo è il sistema di miglioramento genetico tradizionale, è un sistema di miglioramento genetico, cioè prima delle conoscenze del DNA, è un sistema in cui uno fa un incrocio e la selezione è basata su quello che si vede, quello che l'uomo vede, il selezionatore va in campo, sceglie la carota in questo caso più rossa e spera che i figli di questa carota grossa siano effettivamente grossi come il genitore. In questo modo facciamo la selezione varietale classica. Se però noi operiamo usando delle conoscenze molecolari, cioè se sappiamo quali sono i geni che ci servono, la logica è leggermente diversa. Uno fa sempre il suo campo, prende le piante, analizza il DNA, sceglie le piante in base al gene che contengono e sa a priori che la pianta selezionata è quella che contiene il gene, in questo caso qua ad esempio il gene di resistenza alla malattia, che gli interessa. Quindi questo è un sistema di selezione che è applicato in modo esteso oggi, da 20 anni in questa parte, con poi tutte le filiere produttive e serve ad avere un sistema razionale basato sulla conoscenza per selezionare i caratteri di cui ci serviamo. E questo è l'approccio strano. Qualche esempio concreto, ve ne porto uno, che è questo. Se voi prendete un banale catalogo di pomodori, ad esempio pomodori da industria, prendete un ibrido di pomodori da industria, questo è uno dei tanti che ho preso a caso, vedrete che questo ibrido è citato resistente a 1, 2, 3, 4, 5, 6 forme di malattie. In tutti questi casi, a meno degli ibridi moderni, nel caso del pomodoro, queste resistenze sono state tutte inserite all'interno di questo ibrido attraverso la tecnologia che vi ho fatto vedere prima e sono controllate, chiaramente con la stessa tecnologia. Quando noi compriamo un ibrido che ha dichiarato queste resistenze, siamo certi che ci sono dentro perché il produttore ha effettuato tutte le analisi molecolari necessarie a dimostrare che l'ibrido effettivamente contiene i materiali di geni di cui abbiamo bisogno. Questo è il primo approccio, quindi il carattere esiste in una forma lontana dalle forme coltivate ma della stessa specie, incrocio questa forma che porta il carattere con la specie, con la varietà moderna, inserisco il carattere e lo seguo mediante i marcatori molecolari. Questo è la gran parte del movimento genetico fatto oggi nel mondo. Però abbiamo altre situazioni. Sto dicevo, è la dimensione di cui raccontavo prima, se il carattere non esiste nel germoplasma della specie di interesse, ad esempio non abbiamo un mais resistente alla piraide tra tutti i mais esistenti al mondo, quindi dobbiamo cercare da un'altra parte. Esistono specie che possono contenere il carattere anche se in una forma un po' diversa quella che ci aspettiamo, prendiamo il gene da una specie e lo trasferiamo in un'altra specie, facciamo cioè un organismo geneticamente modificato. Un organismo nel quale è inserito nel suo interno un gene derivante da una forma biologica diversa che non è interfertile con l'organismo ricerente. Questo è il concetto di fondo, cioè prendiamo un gene ad esempio di un batterio e lo andiamo a inserire in una mela. Oppure nel caso del mais questi geni di Bt sono geni che derivano da batteri che portano una tossina e sono inseriti direttamente all'interno del mais. Parliamo di una tecnologia che è stata scoperta nel 1982-83. Il primo pianta OGM coltivata è nel 1996. Da allora sono tantissimi i campi coltivati. Quanti sono gli OGM nel mondo? Gli OGM approvati in almeno un paese sono oltre 300, ci sono tantissime. E poi ci sono tanti altri che sono in fase di preregistrazione. Non tutti e 300 sono coltivati, sono stati approvati. Poi il fatto che vengono coltivati dipende dalla convenienza a coltivare quel prodotto in quel certo paese. Quindi in realtà quelli coltivati sono meno, però quelli approvati da qualche normativa nazionale sono tantissime. Qualche esempio di quelli famosi da noi. Tipicamente il mais Bt. Il mais Bt è un mais che contiene un gene che codifica per una tossina, una proteina insetticida che si chiama CRY, cioè una tossina derivante da un bacillus tungensis. Il bacillus tungensis è un batterio che si trova nel suolo, che si trova ovunque. Di per sé il bacillus tungensis è anche un prodotto utilizzato come insetticida nell'intoltura biologica. Questo bacillus tungensis, come molti altri batteri, produce tossine che servono a difendersi dai batteri che gli stanno intorno. Quindi i batteri sono molto competitivi, molto legiosi, possiamo chiamare, possiamo dire. Per cui hanno tantissimi meccanismi di tossicità nei confronti di altri batteri e in questo caso questa tossina è anche attiva nei confronti dell'epidotteri, quindi degli insetti che è solamente la cattività dell'epidotteri. Ovviamente è molto specifica, per cui ad esempio non è tossica nel confronto degli organismi dei mammiferi. Il motivo per cui è così specifica è il fatto che per essere attivata questa tossina per sé è inattiva. Quando tu compri il prodotto per la proteina biologica la tossina è completamente inattiva, ma viene attivata se entra all'interno di un apparato digerente con pH basico. Il costino umano di tutti i mammiferi lavora in pH acido, molto acido e quindi di fatto non viene mai attivata. Se non ingerisce tossina Bt non ha un effetto tossico. Qual è il vantaggio operativo? In questo caso vediamo che una pianta di mais Bt è resistente agli insetti all'infettazione da piraide, semplicemente perché la piraide muore quando mangia le prime foglie, cioè la larva della piraide muore quando mangia i primi pezzi di foglie del mais Bt e la conseguente resistenza della piraide è poi un effetto collaterale importante nel fatto che queste piante di mais tendenzialmente hanno un minore rischio di essere attaccati ai fumi micotossigeni. Questo perché le fusariosi delle micotossine tendenzialmente approfittano dei tessuti danneggiati dalla larva della piraide. Quindi questa protezione è particolarmente significativa. è totale, quindi le piante sono decisamente resistenti e anche la riduzione del livello di micotossine è molto importante. Ovviamente questo ha un effetto diretto sulla produzione se uno opera in un ambiente dove la piraide ha un problema. In questo caso abbiamo solo due soluzioni, o uno accetta il danno della piraide oppure fa un trattamento insetticida. In Italia, dove il Bt è vietato, nelle aree in cui la piraide ha un problema, ci sono stati diversi tentativi di effettuare trattamenti insetticidi sul mais per tenerlo protetto dalla piraide, però considerate che in un'area dove la piraide ha un problema importante come questa è la prima padana, il danno della piraide può essere del 15-20% della produzione. Quindi avere una pianta resistente automaticamente aumenta la produzione del 15-20% nelle annate in cui la piraide ha un problema. Un'altra pianta molto diffusa che contiene sempre la stessa adottosina Bt è il cotone. Anche nel caso del cotone in Italia non si coltiva cotone, ma cotone è un critica piante delle aree calde del pianeta e nelle aree calde noi sappiamo che gli insetti vanno a nozze. Per cui avere delle piante di cotone resistenti a più insetti, meno tutti gli insetti della famiglia del gruppo delle epidotteri, è un grandissimo vantaggio in termini produttivi, in termini di riduzione dei trattamenti fitosanitari. Ovviamente il cotone è perfetto. Un'altra pianta molto famosa per quello che citavi tu all'inizio, molto famosa per essere l'OGM, è la soia. Nel caso della soia abbiamo questi randapredi. Cos'è il randapredi? Il randapredi è un insetticida totale, quindi distrugge tutte le piante che sono verdi ed è caratterizzato anche in una rapidissima degradabilità del suolo, quindi questo è il vantaggio tra virgolette è meno pericoloso di altri insetticidi. Pesticidi. Gli insetti di erbicidi. Erbicidi, scusa. Allora, come funziona un erbicida come il randapredi? Questi erbicidi agiscono all'interno della pianta bloccando un'enzima, normalmente un'enzima della produzione degli amminoacidi oppure un'enzima del sistema fotosintetico. Se quest'enzima è bloccato, la pianta non può più produrre amminoacidi, quindi muore, le cellule muore. Però è un meccanismo che è molto semplice da rendere resistente, perché se uno cambia la forma dell'enzima, l'erbicida non è più attivo, perché l'erbicida riconosce lo specifico punto dell'enzima. Se questo punto viene modificato, l'erbicida non è più attivo nei confronti della pianta. Cos'è una pianta resistente all'erbicida? È una pianta che ha una mutazione nell'enzima target dell'erbicida, in modo tale che l'erbicida non riconosce più il suo target. Quindi una pianta diventa resistente. Quindi questo si può fare prendendo un'enzima, una forma diversa dell'enzima da un batterio, come nel caso del randa-predi, e inserendolo nella pianta. Quindi la pianta di soia randa-predi ha due forme dell'enzima target. La forma della soia, che è comunque sensibile al randa, e una forma alternativa, che è quella che sta introdotta con l'OGM, che è insensibile all'azione del randa. Quindi la pianta di soia randa-predi non muore quando trattate con il randa, semplicemente perché ha una forma alternativa dell'enzima target, che è resistente all'erbicida. Perché fare piante resistenti agli erbicidi? Dobbiamo essere consapevoli tutti che, all'eccezione del biologico, tutta la superficie agraria italiana è, a sapere, al 90%, o forse esclusi i prati, trattata con erbicidi. Perché la presenza delle erbe infestanti ha un fortissimo gap produttivo. Cioè, nel caso di un frumento, di un mais, parliamo di una penalità produttiva che può essere reale al 20-30%, se uno non riserva. Quindi c'è un enorme interesse di riservare il terzo economico. Ovviamente, in alcuni casi, il diservo è complicato. Non sempre il diservo è efficace. Perché gli eservanti che viene utilizzato nelle culture sono diservanti che si chiamano selettivi. Quindi sono molecole che dovrebbero essere in grado di distinguere tra la forma coltivata della pianta e le forme infestanti. Non è così semplice. Molte volte non è così facile trovare un erbicida così selettivo da distinguere esattamente la specie coltivata da tutte le altre specie. Quindi, se noi abbiamo un erbicida, se ricostruiamo una forma coltivata che è resistente a un erbicida totale, il problema è molto semplice, molto semplificato. uno distrugge tutto e serve la pianta che porta il gene di resistenza. Questo rende la coltura delle randapredi estremamente semplificata, molto più semplice, l'erbicida è molto più efficace. Questo ha un impatto sull'economia globale dell'azienda e anche un impatto sulla produzione. quindi semplifica di molto il lavoro dell'agricoltore e migliora il risultato perché non devi più andare a cercare un erbicida selettivo in funzione del tipo di infestanti che hai l'anno in campo, ma semplicemente usi un erbicida totale e hai una pianta, la tua pianta coltivata, che è diventata resistente per l'erbicida genetica. Quindi di fatto l'efficacia del riservo è superiore, i costi sono inferiori e la positività aumenta. Ok, questa è l'altra grande strategia. Ma quali sono i paesi nel mondo che coltivano, che usano gli OGM? Attualmente, questo è il quadro complessivo che abbiamo in questo momento, considerate che questi sono dati tre anni fa, nel mondo ci sono circa 190 milioni di ettari coltivati con piante OGM. 190 milioni di ettari significa circa il 12-13% di tutta la superficie agricola coltivata al mondo. I principali paesi sono quelli che vedete, soprattutto in America, Stati Uniti, Canada, tutto in Sud America, paesi come la Cina, l'India, ma in Europa ci sono due eccezioni importanti. Lo Spagna e il Portogallo hanno autorizzato e utilizzano il mais Bt, in Spagna ci sono oltre 100 mila ettari, ovviamente nelle regioni in cui il mais Bt è utile, cioè quando c'è in presenza di infestazioni più varie. chiaramente questo è un discorso molto politico, ci sono molte scelte che sono basate su opinioni o punti di vista politici, però vorrei essere chiaro, nessuna delle piante OGM autorizzate ha mai dimostrato un effetto tossico o negativo nei confronti della salute umana, nei confronti dell'ambiente. nessun dato è scientificamente dimostrato. C'è stato ogni tanto qualcuno che lancia qualche allarme clamoroso, però alla verifica scientifica fatta a posteriori o anche a priori, quindi di lasciare questi prodotti, ad oggi sono state tutte negative. Non è solo un problema di quanti paesi lo coltivano, ma è un problema di quale piante sono coltivate e di quante di queste piante sono coltivate. Prendiamo il caso della soia. La soia che soprattutto è coltivata in Brasile, anche in Argentina e soprattutto OGM, il 78% di tutta la soia coltivata nel mondo nel 2018 era OGM. Noi siamo un paese che importa l'80% circa, l'85% della soia che consuma. Larga parte della soia che importiamo è OGM, semplicemente perché i più grandi produttori del mondo di soia sono OGM. In tant'è che nessun mangimi che utilizziamo nella nostra industria zootecnica è anche scritto sull'etichetta, contiene prodotti OGM. La situazione è abbastanza simile per il mais. Nel mais sappiamo che il 100% della superficie mondiale è OGM e anche in questo caso l'Italia, che sta diventando un grande importatore di mais, importa tranquillamente OGM. Guardate che questi prodotti qua sono importati perché autorizzati all'uso nell'Unione Europea. l'Unione Europea rilascia due autorizzazioni. Una è l'autorizzazione all'uso del prodotto, l'altra è l'autorizzazione alla coltivazione. Quindi l'autorizzazione alla coltivazione è soggetta a un vincolo nazionale per cui il mais BT autorizzato alla coltivazione a livello europeo non è stato autorizzato in Italia e in molti altri paesi per un veto a livello nazionale. Mentre l'autorizzazione al consumo è rilasciata a livello europeo e non può essere appellata a livello nazionale. In Italia il mais BT è autorizzato al consumo, quindi all'utilizzo per fare prodotti azotecnici ad esempio, ma non alla coltivazione. Segnalo ad esempio un'altra cosa molto interessante a mio avviso che anche nel caso del cotone, il 76% del cotone che viene coltivato nel mondo è OGM e noi importiamo il 100% del cotone che usiamo per i nostri abiti, rigorosamente OGM. Ovviamente non c'è scritto sui vostri abiti che è OGM perché la legge dice che per poter dichiarare un prodotto contenente OGM deve esserci la possibilità di dimostrarlo. Siccome il cotone industriale non contiene DNA della pianta che l'ha prodotto, nessuno può andare a dimostrare che il mio maglione che indosso adesso è di cotone OGM perché il mio maglione non contiene nessuna traccia di DNA della pianta che ha prodotto il cotone con cui è stato fabbricato. Evidentemente se il 75% del cotone nel mondo è OGM molto probabilmente anche i vestiti che porto oggi derivano da pianta OGM. Bene, vediamo un altro punto di vista del problema. Bene, immaginiamo però che noi non vogliamo assolutamente OGM. Quindi possiamo, quando siamo di fronte a un problema di cercare un carattere che al momento non esiste nella specie di cui ci occupiamo, abbiamo un'altra strada possibile. Possiamo andare a creare il carattere della specie di interesse. Questo è un aspetto non è banale ed è una cosa che porta a creare conseguenze significative interessanti. Il primo approccio che vi ho chiesto, che vi ho detto, potremmo fare mutagenesi. Quindi induciamo una mutazione, immaginiamo di operare ad esempio in un cereale e vogliamo mutare un cereale. E quindi creiamo un carattere. Immaginiamo ad esempio di volere lavorare in riso e siamo interessati a fare un riso resistente all'ermicida. nulla di diverso dalla soglia dell'antropredi. Ok? Però non possiamo usare gli germi. Quindi facciamo mutagenesi e cerchiamo una pianta di riso che quando spruzzata con l'ermicida non muore. Possiamo farlo? Sì, perché come vi ho spiegato prima, basta andare a mutare un piccolo punto dell'enzima che è il target dell'ermicida. Quindi se andiamo a cambiare quell'enzima, l'ermicida non riconosce più l'enzima e quindi tutte le piante che porteranno l'enzima alla versione mutata saranno resistenti. Questo è il meccanismo attraverso cui nascono le piante infestanti resistenti agli erbicidi. Questo è un evento che capita in natura. Però possiamo farlo anche in campo. Ad esempio la BASF, tanti anni fa, ha fatto questa tecnologia applicata al riso e ha abbrevettato, tra l'altro, una tecnologia che chiamano Clearfield che è una forma di riso resistente a un erbicida. Casualmente un erbicida prodotto dalla BASF. Però questo che voglio sottolineare è tutto come meccanismo, è tutto analogo a quello di avere la soia resistente a erbicida. E vorrei solo sottolineare che oggi un quarto delle risari italiane è coltivato con riso Clearfield. Cioè con riso contiene questa tecnologia che è basata sulla mutagenesi, quindi è legalmente consentita, però è molto, molto analoga, molto, molto simile. È anche la BASF e la multinazionale come la Pioneer. Questo qui è un prodotto, l'erbicida che si deve utilizzare con questo Clearfield, è un prodotto della BASF, quindi non multinazionale, ha tantissime connotate o caratteristiche simili alla soia arantopredi. Però questo è legalmente consentito alla soia arantopredi. Prendiamo all'ultima strada possibile. Va bene. L'alternativa alla mutagenesi può essere quella di creare… Ti chiedo scusa Luigi. Dimmi. Come riescono ad ottenere quindi la mutagenesi? Spontaneamente, guardando nelle piante o può essere in due? Cioè ti faccio un esempio. Il vecchio creso, no? Che dici che era stato ottenuto, è una mutagenesi quella lì? Perché anche qui è oggetto di discussione, diciamo, nei bar, no? Il creso è modificato geneticamente? È un OGM? No? È mutagenesi? Allora, innanzitutto se devo andare a dire organismo geneticamente modificato è qualunque organismo vivente, dal punto di vista scientifico. Dal punto di vista legislativo, un OGM è un organismo in cui il gene è stato inserito partendo da un organismo esterno che è stato inserito in modo artificiale. Ok. Quindi la distinzione è legale. Cioè l'OGM è una categoria legale, non è una categoria scientifica. Scientificamente direi che qualunque organismo ha una posta delle modifiche genetiche. Come si fa a realizzare mutagenesi? Ci sono tanti approcci. A partire degli anni sessanta, degli anni sessanta, ci sono stati tantissimi lavori in cui si bastava esporgere un sacco di semi a qualche radiazione, oppure se vogliamo un trattamento chimico, un agente chimico, bastava immergere un sacco di semi prima di disseminarlo in un'ora, in un mutageno chimico, toglierlo, lavavano e disseminarlo e queste piante mostreranno tantissime mutazioni. La mutazione, quella di Mas, quella del terfile, è stata tutta in questo modo. Miglianti di mutagenesi chimica, poi hanno valutato migliaia e migliaia di piante semplicemente trattando quell'erbicida e qualche pianta ha cominciato a resistere. A quel punto lì sono accorti, loro sentivano già cercare questa cosa, non l'hanno fatta a caso, l'hanno fatta perché prima sapevano già cosa volevano e come cercarlo e dove cercarlo. Certamente è stato un lavoro, diciamo, dove sono state indotte mutazioni a random, casualmente, nel genoma e fino a che, per puro caso, anche il genere di interesse è stato mutato. Ma lo stesso avviene in natura. Come dicevo prima, in natura è frequente trovare nei nostri campi delle piante infestanti che sono resistenti agli erbicidi, quindi delle popolazioni di infestanti che hanno sviluppato la resistenza, semplicemente perché un evento di mutazione naturale sull'enzima target dell'erbicida determina comunque la creazione di una pianta resistente. Questo viene in natura, può essere indotto all'uomo di mutagenesi, oppure può essere fatto mediante genomating. Il genomating è l'ultimo capitolo della storia e questa grande tecnologia recente che è comparsa nel 2012 e che adesso è un po' solo per tutti, quelle che si chiamano new breathing technique o tecnologie di evoluzione assistita, sono tecniche che consentono di andare a modificare il DNA di un individuo, di qualunque individuo, si fa anche a livello medico ad esempio, andando a modificare in modo preciso una mutazione in un gene predefinito. Il grande vantaggio rispetto alla mutagenesi è che il genomating non va a caso. L'utagenesi è un evento casuale. Il genomating va in un precisa sequenza che è conosciuto a priori, induce una mutazione che è predeterminata e quindi può creare un effetto. Il genomating quindi consente di modificare un gene all'interno della specie tale e non inserisce geni esterni. In questo caso, diversamente da quello che sono gli OGM dove un gene viene inserito, viene preso da un organismo, trasferito in un altro, nel genomating non c'è trasferimento di gene. È il risultato che si ottiene tutto analogo a quello che si ottiene con la mutagenesi. Come dicevo, riguarda solamente un gene che è definito a priori e poi il meccanismo che serve per farlo viene rimosso, quindi il telofinale è una pianta che ha solamente una mutazione. Ed è per questo che il genomating per sé è indistinguibile da un evento naturale, perché solamente chi l'ha fatto è in grado di dichiararlo e quindi di autodenunciarsi in questo senso. Porto un esempio. Andiamo nel settore del mais. Guardate che una delle prime mutazioni scoperte nei primi anni del Novecento era il Maix-Woxy. Il Maix-Woxy è il mais che ha una modifica nell'ambito delle seme che è utilizzato per alcune filiere industriali, per fare ad esempio la plastica e così via, perché dal punto di vista industriale questi amidi i Woxy hanno alcune caratteristiche favorevoli. Se voi vedete un catalogo di ibridi di mais, troverete sicuramente tutte le principali edite hanno in catalogo diversi ibridi Woxy. E sono coltivati anche in Italia. Queste sono tutte piante in cui la mutazione ha distrutto un gene che controlla una parte della sintesi dell'ambito. In modo provocatorio, diciamo, Corteva, 4-5 anni fa, ha fatto una pianta editata Woxy. Sempre Woxy è, sempre ha modificato esattamente lo stesso gene che era stato modificato, di cui si attraccia l'infinite mutazioni naturali. Semplicemente l'ha ottenuto con un modo diverso. ma solamente perché Corteva si è autodenunciata e ha detto questo l'ha fatto con il genometri, noi siamo in grado di dire quello l'ha fatto con il genometri. Altrimenti sarebbe stato uno delle centinaia di mutazioni del gene Woxy che sono stati descritti nel terpore. Quindi capite che il genometri è veramente mima in modo quasi identico quello che fa l'effetto della mutazione gen naturale, salvo il fatto che la mutazione non è mai casuale ma è predeterminata dall'operatore. Posso raccontarvi, forse questo lo possiamo lasciar perdere, forse un po' troppo complesso per questo scopo, c'è il concetto che non è un OGM, quindi dal punto di vista normativo in questo momento il genometri è equiparato all'OGM, ma tutto il mondo scientifico è consapevole del fatto che questo non è equivalente a un OGM, perché non c'è trasferimento di gene da una specie a un'altra. Siamo tutti in attesa di questa nuova normativa europea che si spera riconosca la realtà dei fatti. Chiudo con un esempio. Parliamo di genometri. Bene, in Giappone è stata commercializzata oggi una prima varietà di pomodoro ottenuta mediante genometri. Questa varietà l'hanno chiamata Sicilian Rouge, che già vuol dire molto, ma è una realtà che stava in commercio nei mercati giapponesi ed è carattizzata all'avere un elevato livello di GABA. GABA è un acido gamma-mino-butinico che è una di queste sostanze che ha un effetto positivo sulla salute, cioè riduce l'ipertensione. E come hanno fatto a creare una pianta che accumula più GABA delle altre piante di pomodoro? Hanno fatto un gioco molto semplice. Usando il genometri hanno eliminato, hanno tolto, hanno danneggiato il meccanismo che riduce l'accumulo di GABA. Negli organismi 20, molto spesso, ogni attività di sintesi ha anche un controllo negativo. Se tu reprimi, annulli il controllo negativo o riduci il controllo negativo, la quantità aumenta. Questo in tutti i casi. Ad esempio, pensate alla dimensione di un seme. La dimensione di un seme è determinata sia da geni che creano l'aumento della dimensione del seme, ma anche da geni che limitano l'aumento. Se uno distrugge da una mutazione sul gene che limita la dimensione del seme, il seme diventa più grande. Andando a toccare un meccanismo regolativo negativo sia un effetto positivo. Questi che hanno selezionato questa varietà di pomodoro hanno semplicemente tolto un meccanismo di regolazione negativa della sintesi del GABA. Conseguentemente, la pianta accumula più GABA di quello che dovrebbe accumulato in natura. Siccome a noi, diciamo, uomini, fa piacere avere piante con più GABA, è semplicemente un adattamento del genoma di questa pianta a un'esigenza nutrizionale umana. Quindi, come vedete, questo è il primo esempio, tra l'altro, di varietà editata, rilasciata, autorizzata e coltivata. Quindi c'è disponibile nei supermercati. Sembra che sia, in realtà, un successo. Chiudo con questa diapositiva ricordando che in Italia abbiamo un progetto che si chiama Biotec Biotecnologie Sostenibili per l'agricoltura italiana, che è un progetto che sta sviluppando molte di queste conoscenze sul genome editing a tante filiere italiane e ci sono risultati che vanno dal pomodoro al frumento, alla vite, ad esempio, e ad altre specie ancora. Questo è veramente quello che chiamiamo un game changer, cioè quella tecnologia che può cambiare il modo di affrontare i problemi, di affrontare il problemi di miglioramento genetico. E in un'ottica di avere un paese in un'agricoltura che si deve adattare ai cambiamenti climatici, che è un problema ancora più grande dell'Ucraina dal punto di vista alimentare. perché parliamo di un allattamento che sarà inevitabile nei prossimi anni e con cambiamenti climatici che vanno più veloci di quelli che ne pensiamo. e questa è una tecnologia che vogliamo sia fondamentale per il futuro e pensiamo che questo progetto riuscirà a dare una spinta proprio anche all'Italia, al paese e al futuro italiano. Bene, ottimo Luigi. Grazie. Se magari chiudi così ti vediamo meglio la condivisione e ti volevo fare alcune domande, Luigi. Ce ne avrei veramente molte. Immagino anche quelli dei nostri lettori. Allora, chiariamo bene questo punto, perché anche questo è oggetto di confusione. Allora, noi non possiamo, noi parliamo dell'Italia, noi non possiamo coltivare materie prime geneticamente modificate, ma le importiamo normalmente. Oh, perché è avvenuto questo, Luigi? Cioè, al di là che... No, lo vorrei affrontare con... Cioè, non c'è stata una dovuta e adeguata comunicazione da parte del, diciamo, di chi è favorevole alla diffusione degli OGM o è un problema, diciamo, ancora più complesso? Perché altrimenti sarebbe un'ipocrisia, no? Cioè, li posso comprare, ma non li posso seminare. Eh, certo. Noi li compriamo, non è che li possiamo comprare. Guardate, negli anni 90, fino al 98-99, in Italia c'erano tantissimi campi di prova di mais GM. C'erano più in una padana, c'erano forse 10-15. Erano stati... C'erano già molti programmi di sviluppo degli OGM in Italia. Poi, intorno al 2000-2001, quando arrivò l'Istituto dell'agricoltura, piccolario Scania, fu lanciato questo bando nei confronti degli OGM. Il grande italiano poi investì tanti soldi per cercare di, diciamo, di valutare la sicurezza di queste piante, però non trovarono mai nulla. Guardate, in tutto il mondo c'erano tantissimi lavori che verificano la sicurezza, l'impatto sull'ambiente e sulla salute di queste piante, e nessuno ha mai riuscito a dimostrare che queste piante abbiano un impatto diverso rispetto a una pianta uguale ad un'OGM. Però c'è stata questa posizione, questa posizione principalmente politica, a mio avviso, con questo guardisco l'opinione personale, che poi ha bloccato anche a livello europeo la strada a questi tipi di tecnologie. E' chiaro che siamo un paese un pochettino ipotica, perché non facciamo gli OGM, ma li importiamo a mani basse. Abbiamo politiche di disincentivazione della ricerca genetica in Italia per andare a importare genetica estera. Il ritorno alle varietà antiche sia una soluzione, ma questo non può essere una soluzione. Primo, perché le varietà antiche non producono. Secondo, perché il cambiamento climatico non guarda in faccia a nessuno, nemmeno le varietà antiche. Quindi noi viviamo in una dimensione che non è reale. Se lo vedete, il vero dramma è che c'è un percepito del prodotto agricolo e una realtà. Il percepito del prodotto agricolo è quello della città del, tra virgolette, mulino bianco. Pensiamo che il prodotto agricolo sia fatto con quello spirito, ma in realtà non è così. Ma non è così, non può essere così, perché non abbiamo lo spazio per coltivare. Faccio solo un esempio molto pratico. In Italia si coltivano 600.000 ettari di frumento tenero. Questi 600.000 ettari coltivati prevalentemente con varietà moderne forniscono il 40% del frumento tenero usato in Italia per fare la prioche, il panino, il pane, la pizza e così via. E quindi importiamo già il 60%, molto dall'Ucraina, ad esempio. Se noi immaginassimo di passare alle varietà antiche, la produzione nazionale scenderebbe alla metà, quindi diventerebbe un importatore dell'80% del frumento tenero di cui abbiamo bisogno. Quindi penso serve un minimo di essere un attimo realistici, capire cosa vogliamo essere come Paese. Se vogliamo veramente inluderci, vivere in un altro pianeta, sulla Luna, e allora importiamo tutto, va bene. Però se pensiamo che importare tutto non sia proprio la strada migliore per avere una certezza sul nostro futuro come Paese, dobbiamo farci due conti. Come si dice una persona oggi, la recreazione su questo tema qua è finita. Bisognerebbe cercare di prendere decisioni che siano coerenti e in base alle idee. Non possiamo desiderare un'autosufficienza alimentare o desiderare di non importare il grano dell'Ucraina o della Russia quando poi non possiamo adottare le misure necessarie del futuro. Guardate che nel grano, non parliamo nemmeno di grano GM, che al momento non c'è in Europa, ma in realtà c'è da qualche parte del mondo e c'è comunque. Ti volevo chiedere proprio questo. In funzione di questa consapevolezza del cambiamento climatico e anche la consapevolezza di aumentare la South, perché lo spazio è quello. L'Italia è un piccolo Paese e per lo più è collinario e montano peraltro. Di quello che c'è di disponibile oggi nell'ambito del genome editing, per quanto riguarda per esempio i cereali utilizzabili sia nell'alimentazione umana che anche animale, quindi intendo orzo, intendo mais, oggi o a breve, ci sarà la possibilità di avere questi cereali che si possano adattare a climi bioaridi oppure e o ad ambienti, diciamo, non previamente di pianura. C'è già qualcosa? Ci hai fatto l'esempio del pomodorma, dell'ambito zootecnico. Ci sono tanti studi su questo, soprattutto se c'è via Paglia, anche in Italia, ma anche all'estero. C'è molto lavoro sull'introduzione di nuove forme di resistenza alle malattie. Questo è un primo problema. Ci sono diversi lavori proprio sulla potenzialità produttiva in senso lato. Molto altro può avvenire. Diciamo che l'allattamento delle piante al cambiamento climatico è una priorità a livello di ricerca ormai da 15 anni probabilmente e piano piano stanno cominciando ad arrivare nuove tipologie di piante, nuove forme di resistenza e questo lo vedo come una sfida possibile. Diciamo che non sarei così pessimista su questo. Ovviamente il clima cambia in continuo. Pensiamo che il clima, noi diciamo, oggi è cambiato rispetto a ieri, ma domani cambierà rispetto ad oggi. Quindi questo è un seguimento continuo che bisogna fare fino a che la situazione non si stabilizzerà, ma parliamo di 50-100 anni davanti a noi. Perché certamente non è sufficiente fare le piante per il clima di oggi, perché domani sarà diverso da oggi. Quindi è una rincorsa all'infinito. Cioè la stessa cosa proprio per le resistenze alle malattie. Uno rincorre sempre le nuove forme di patogenesi. Perché chiaramente anche le malattie sono essendo viventi, quindi si evolvono e si devono adattarsi in nuove condizioni. Se noi cominciamo a distribuire piante resistenti, questi tenteranno di evolversi sfruttando la protogenesi naturale e di creare forme di patogenesi capaci di superare l'esistenza della pianta. Cioè l'agricoltura è un'eterna sfida tra l'uomo e le piante sostenute dall'uomo e poi tutto l'ambiente. La stessa cosa in medicina. Cioè non so se vi ricorda qualcosa la parola variante. In variante c'è il virus ma c'è anche nelle malattie delle piante. O non so se vi ricorda qualcosa la parola salto di specie. E non è solamente che salto di specie tra il pipistrello e l'uomo. Abbiamo malattie di, non so, c'è una famosa malattia del riso che improvvisamente è saltata sul fumento. Un disastro. Però il salto di specie è visto in tutto. Ogni specie cerca di evolversi e ha l'opportunità di modificarsi. E questo dobbiamo vivere anche nel settore agricolo. Quindi tutto quello che abbiamo imparato dall'energia sanitaria di oggi, di questi anni, è proprio il fatto che i patogeni, quindi diciamo le nostre salvolette nemici, si evolvono, cambiano e non dobbiamo essere in grado di affrontare i cambiamenti. E non c'è nulla di strano nel fatto che si evolvono. Non è un effetto dell'uomo, è che la natura non li fa evolvere. Certo. Senti, un'altra delle perplessità, torniamo alla famigerata sua Eranda Predi, no? Era al di là del fatto che il rischio di residui, no? Perché se riesce a convivere con il glifosato, quindi, dice, magari aumenta il rischio di residui e quindi la possibile tossicità del glifosate. ma c'era anche, diciamo, tra gli obiettori di queste cose è che l'inserimento di geni diversi, geni alieni all'interno di una pianta, potesse, che so, creare il rischio che venissero sintetizzate delle proteine allergizzanti per l'uomo, cioè tossiche, qualcosa che non è presente normalmente. Ti senti di fugare questo rischio nell'OGM? No, parliamo di caso per caso perché l'OGM è una categoria estremamente eterogenea. Uno può fare l'OGM con il gene per il vereno del serpente cobra e fa un UGM verinoso, ok? Questo non esiste, sia chiaro, non ne sono mai fatto. Però via di principio, se io prendo un gene per una sostanza tossica e faccio un UGM, faccio un UGM tossico. Vediamo un attimo la questione del dosaggio ai glifosati. Non confondiamo le cose. Il problema è che sorti in questi ultimi anni del fatto che c'erano residui di glifosati negli cereali tipo fumento o orzo non dipende dal fatto e quelle piante sono resistenti ai glifosati, ok? È un approccio diverso. Il motivo è diverso, nel senso che quando noi importiamo un frumento dal Canada, ad esempio, da un paese del Nord Europa, del Nord America, lì le piante crescono in una condizione molto particolare. Hanno cicli brevissimi. Le piante in Canada, il frumento in Canada viene seminato a maggio e viene raccolto a settembre. Lì una pianta di frumento fa il ciclo in 99 giorni, in alcuni casi anche in 95. quindi il loro problema è di seccare la pianta e raccoglierla. Tanti anni fa in quei paesi i frumenti venivano falciati come noi si faccia il fieno e poi raccolto inoltre che la pianta la secca. Oggi trattano quelle glifosate, essiccano la pianta in piedi e poi raccolgono. Questo è il motivo per cui nel frumento, quindi nelle aree geografiche frequentemente si trovano un po' di residui di glifosate perché viene utilizzato per la raccolta, non per difendere la pianta dall'infestante. Nella soia invece il problema è diverso, completamente opposto. Quindi la soia viene trattata con glifosate quando è molto giovane, in fase di sviluppo della coltura. Quando le aree infestanti scompeziano con le piante di soia per lo spazio vitale. In questo caso i baccelli di soia, i semi di soia che vengono raccolti, non entrano in contatto con glifosate, perché glifosate è distribuito sul campo mesi prima che compaiono i fiori e i baccelli e quindi quelle soie che raccogliamo. Quindi nessuno ha mai trovato un residuo di glifosate nella soia da predi importata. Più frequentemente si trova il residuo di glifosate nei frumenti che vengono da aree geografiche dove il clima è tale, per cui è conveniente disseccare la pianta in campo prima di raccogliarle. Tipicamente in Canada, come arriva a settembre, prima ottobre in Evica, quindi tu tratti con glifosate e poi entri con la medicina in via che raccoglie. Per quanto riguarda invece l'altro problema legato alla comparsa di eventuali proteine, vuol dire che possono dare un problema poi a livello di alimentazione umana, anche qui dobbiamo distinguere le cose. Allora, ci sono stati tantissimi studi su questi aspetti e di norma nessuno dei GioGM commerciali, parliamo di soia, mais, così via, è mai stato dimostrato avere un ruolo di allergizzante. Ci fu in passato un caso che fu fatto e fu bloccato in fase pre-commerciale, che non andò mai in commercio, di una proteina che originava, mi sembra derivata da una pianta brasiliana, che aveva dato qualche origine, qualche problema di tossicità, di allergenicità. Ma guardate che però stiamo parlando di piante dove quelle commerciali autorizzate il rischio è nullo, è stato verificato per questo. Cioè è molto più rischioso mangiarsi un pomodoro o un kiwi, guardate quante persone sono allergiche ai kiwi, piuttosto che usare una pianta di mais dimostrata certamente innocua. E vale sempre capire bene quello che ci chiamo. Noi accettiamo di essere esposti a una marea di allergizzanti nella nostra vita, di prodotti che non sono mai stati testati come allergizzanti perché sono prodotti naturali, mentre non accettiamo il rischio di un prodotto che sia verificato non allergizzante per KGM. Ti volevo fare un'ultima domanda, Luigi. È una domanda, diciamo, non tecnica, tu sei uno scienziato, quindi è una domanda del mondo etico, che ti ho fatto poi all'inizio e tu mi hai anche un po' risposto, ma vorrei approfondirla. Allora, il fatto che queste, diciamo, modifiche genetiche che possono essere l'OGM di cui hai parlato, che possono essere la mutagenesi, che possa essere l'editing genomico, eccetera, eccetera, di fatto sono la proprietà di questi semi appunto e di multinazionali. Tu mi hai già risposto perché mi hai detto ma guarda che comunque non soltanto queste piante sono di proprietà di multinazionali, ma noi lo vediamo, è comunque straniere, no? Ma lo vediamo anche nella genetica animale. Ci sono alcune razze che noi le portiamo dall'esterno. Però mettiamola da un punto estetico, perché questo è un ostacolo molto importante per la diffusione eventuale appunto ulteriore, oppure l'autorizzazione alla coltivazione. Ma in un mondo lontano, sarebbe immaginabile che queste piante modificate geneticamente in qualche modo, anche con lo stesso genoma editing, appartengano all'umanità e non a delle multinazionali? Allora mettiamo due aspetti. Il primo, io penso che quello che è chiaro un po' da tutti questi discorsi, se uno si, magari forse per me che sono dentro nel settore, ma forse potrebbe essere chiaro per molti, è quello che è evidente che le conoscenze genomiche sono un asset strategico dell'agricoltura, cosa che fino adesso nessuno ha mai considerato. Ma se uno non ha il seme, non è proprietario del seme, non è in realtà proprietario della propria agricoltura, perché la tua agricoltura dipende da chi ci mette il seme e non c'è agricoltura senza genetica, quindi non credo che possiamo bypassare questo problema. Quindi dobbiamo renderci conto come comunità nazionale che la genetica, le conoscenze genetiche sono veramente un asset strategico senza il quale la nostra agricoltura è per elementi dipendenti da altri. Ora, chi fa il miglioramento genetico? Tanti, non solamente le multinazionali, ci sono tante industrie anche in Italia, medio, piccole, ci sono paesi europei che poi non sono solo le multinazionali americane, ci sono tanti paesi europei che sono organizzati con programmi di ricerca pubblico-privato, con obiettivi a lungo termine, cioè non è tutto bianco-nero, ci sono tante situazioni intermedie per cui non è perso in assoluto, serve che il paese sia consapevole del fatto che non si può fare agricoltura senza genetica. E questo veramente è la sfida di questi anni. Per quanto riguarda poi la questione legata alle proprietà intellettuali, di questo apriamo un discorso ancora diverso. Prima di tutto considerate che già le varietà di oggi sono coperte dalla proprietà intellettuale, le varietà di frumento che continuiamo, ma parli di tutte le varietà, sono coperte da un sistema di proprietà intellettuale che si chiama privativa vegetale e che non è il brevetto industriale, è una forma un po' diversa, però copre e protegge la proprietà. Questo semplicemente ripaga le industrie che hanno investito per la selezione delle varietà. Questo lavoro genetico che vi ho raccontato brevemente ha un costo molto elevato, quindi questo è possibile solamente se ci sono dei finanziamenti. Ora, in molti paesi europei gli investimenti nella selezione varietà sono privati, incluso l'Italia, ma l'Italia è ancora 50-50, però in molti paesi sono privati, ma questi investimenti privati un privato lo fa se c'è un ritorno economico. Questo ritorno economico al momento è garantito dalla privativa vegetale. Un po' come il brevetto sui farmaci. Possiamo immaginare un mondo in cui le piante non siano più coperte a brevetto, siano disponibili per tutti. Dipende da che strategia di paese vogliamo fare. Cioè immaginare un mondo si può, però bisogna poi agire conseguentemente. Perché se questo immaginare nel mondo che le piante siano di tutti implica che non ci sarà più un miglioramento genetico perché i privati si metteranno, questo ci veramente ci taglierà le gambe fra dieci anni. O saremo costretti ad andare. Cioè questo è quello che è stato fatto. Cioè io faccio un esempio molto semplice. In Italia non c'è un'industria che è capace di fare un incrocio per fare un emilo di mais. Cioè lo fanno su licenza, chiaro. Però non c'è una linea di mais italiana coltivata, salvo qualche verità antica che diciamo fa molto fumo e niente al rosto. Ora questo è la conseguenza di scelte fatte negli anni 90 e 80. Ora è chiaro che se noi facciamo quelle scelte poi abbiamo questo risultato. E allora se noi vogliamo tornare indietro adesso ci costerà una montagna di soldi, di investimenti per il tempo perduto. La stessa cosa sta avvenendo in altri settori anche se non così drammatici come nel caso del mais. Quindi se l'idea è che noi ci accontentiamo di quello che abbiamo, guardate che fra dieci anni non avremo più possibilità di andare avanti. Se invece noi vogliamo le piante di tutti perché c'è un fortissimo investimento pubblico che mantiene il progresso genetico attivo, questo è un altro discorso, però implica scelte, costi e così via. Io sarei una cosa un po' diversa, sarei per un sistema in cui ci sia un forte investimento pubblico privato, una forte collaborazione tra ente pubblico e ente privato organizzata da progetti pubblici o comunque da finanziamenti controllati. Una cosa analoga c'è ad esempio in Francia per quello che riguarda le grandi industrie francesi lavorano tutte più o meno intorno all'ERRA, con politiche nazionali di medio e lungo termine, cosa che in Italia non esistono. Per guardare un esempio clamoroso, in Francia alcuni anni fa hanno fatto un progetto pubblico privato per il miglioramento genetico del frumento della durata di dieci anni. Cioè il progetto più lungo che ho mai visto fare in Italia durava tre anni. Quindi loro hanno fatto un programma di dieci anni pubblico privato, dove metto insieme l'ERRA e tutte le industrie private che fanno il miglioramento genetico del frumento. Ora non è un caso se poi noi coltiviamo frumenti francesi, perché loro vanno avanti così dagli anni novanta. Quindi dobbiamo essere coerenti con quello che vogliamo. Vogliamo questo, sviluppiamo politiche coerenti e realistiche. Altrimenti possiamo evitarci a sognare, ma appunto rimane un sogno. Bene Luigi. Allora possiamo dire in chiusura che si semina quello che si raccoglie sostanzialmente. Esatto. Luigi noi ti ringraziamo molto, ci hai fatto questa panoramica su questo mondo. Ti disturberemo ancora perché il nostro paese, come anche devo dire un po' tutto l'Occidente, ormai si trova di fronte a delle scelte e le scelte comportano anche di lasciare indietro qualcosa. Luigi noi ti ringraziamo ancora molto e ti auguriamo un buon proseguimento. Grazie davvero, grazie a voi e alla prossima. Grazie. Grazie a voi. Grazie. Grazie.